7 dicembre 2013 la terza tempesta rivolta buonasera Enrico benvenuto Enrico Molteni che in doppia veste come ormai siamo abituati a vedere di membro di quella cosa chiamata tre allegri ragazzi morti e anche membro tra virgolette fondatore collaboratore Deus e basta cioè belga della tempesta che siamo qui a festeggiare siamo qui a riunire in questa giornata rivolta si è il terzo anno che siamo qua rivolta ed è sempre bello siamo ormai di casa oggi sono arrivato in macchina senza il navigatore la prima volta quindi sta diventando una cattiva abitudine ho imparato la strada quantomeno hai imparato la strada la strada della musica invece sembra sempre più spesso di fronte a un eterno bivio il bivio tra il grande motore di fruizione che sta ora nella musica liquida gratuita anche legale e il gap grandissimo tra questo numero di persone e quelle che poi in realtà vanno a frequentare i concerti la tempesta è un'inversione di tendenza un'eccezione che conferma la regola anche se è una frase odiosa però in tutto questo come sta funzionando a tuo vedere non ho capito bene la domanda intendi c'è molta differenza tra le persone che ascoltano la musica sono persone che conoscono ormai si no intere discografie ogni giorno di band che non hanno mai visto dal vivo appunto perché i concerti magari hanno meno persone come fruitori ma è un periodo molto difficile secondo me da interpretare perché in movimento no sta cambiando e quindi non è facile diciamo dall'interno del del mare mosso capire qual è la direzione però secondo me insomma la musica piace a tutti quindi in un modo o nell'altro si troverà un modo si un equilibrio per per poter continuare a fruire della musica visto che piace visto che da piacere sia sia registrata in streaming scaricamento quello che volete sia dal vivo poi insomma molti concerti sono sold out già con largo anticipo quindi non so secondo me le cose cambiano ma la passione per la musica rimane ma qual è quel passo che spinge alcuni grandi concerti ad essere sempre in sold out e una fascia di musica indipendente che magari anche quella più che non lo è mai la dipendenza più grande della musica o per un musicista ma secondo me diciamo il la cosa per cui chiaramente che ne so gli arctic monkeys fanno sold out è un insieme di di interesse della gente anche di tipo di festa no che si che si crea quindi più gente c'è un esponenziale la crescita no nel momento in cui sai che ci sarà tanta gente sai che sarà una cosa probabilmente fatta bene e viene voglia di andarci anche a te quindi è un meccanismo esponenziale per quanto riguarda il live di questa sera visto che stiamo parlando proprio di concerti il concerto di tre allegri ragazzi morti alla tempesta nella foresta cosa cosa hai da dire quello di questa sera quello di quest'estate per poi pensare alle differenze riguardo beh questa estate è stato figo a mio avviso perché abbiamo suonato per primi alle 18 essendo l'unico credo gruppo sempre presente mi sembrava giusto anche dare un po di un po di cambio no sugli orari perché suonare presto non è mai facile quindi mi è piaciuto molto insomma è stato divertente suonare così così presto con la luce del sole e vedere se la gente veniva vederci lo stesso anche in una condizione un po avversa e niente questa sera invece siamo messi collocati di nuovo in una posizione di privilegio e speriamo insomma di dare il massimo il giardino dei fantasmi ormai è in tour da un bel po di tempo è un disco che è un anno esatto presentato qua l'anno scorso c'è stata una lunga gestazione di questo tour in varie forme passando anche per giovanotti che vi ha scelti come band di presentazione del suo grande spettacolo e anche cantato con voi in un'occasione e cos'è cambiato nella vostra maniera di stare sul palco dopo se è cambiato qualcosa dopo l'esperienza negli stadi insomma così frequente sì beh diciamo abbiamo fatto 90 date in un anno quindi in un anno solare quindi sono veramente tante c'è stata anche questa cosa questo tour con giovanotti negli stadi pazzesco perché non avevamo mai visto una una cosa di questo tipo da quella posizione e secondo me sicuramente è una forma di palestra notevole nel senso che poi dopo diventi fortissimo certo o perlomeno la ti fortifica la tua tua presenza sul palco diventa più più solida ecco almeno io ho avuto questa sensazione insomma una volta che affronti ne so 40 mila quanti erano persone insomma ti non so anche lì c'è un procedimento inverso per cui più gente non è che più gente c'è più sei emozionato credo che ci sia un limite oltre il quale l'emozione torna torna a terra e poi eravamo concentrati quindi insomma è stata un'esperienza molto buona insieme alle emozioni che appunto a un certo momento raggiungono un picco e poi si stabilizzano è quello che arriverà sono anche quelle che arriveranno poi questa sera durante questo live allora intanto grazie enrico grazie tre allegri grazie alla tempesta che è una bella macchia bianca in mezzo a tutto il resto a dopo da sherwood.it grazie a tutti divertitevi ciao grazie a tutti